Un protocollo importante è quello sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine Armate, le associazioni di categoria del trasporto pubblico e i rappresentanti delle società esercenti in servizio, che prevede che anche nel 2019 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine possano circolare gratuitamente sui servizi ferroviari regionali. Un'iniziativa avviata per migliorare la sicurezza, anche quella percepita, sui treni e le stazioni. Nel frattempo è stato confermato dall'assessore alla partita l'investimento di 6 milioni di euro per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che viaggiano con i mezzi pubblici. Attraverso questo stanziamento si consente proprio all'appartenente alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo. In cambio, agenti e militari si metteranno a disposizione per intervenire in caso di bisogno. I nuovi treni, che arriveranno a partire dal prossimo anno, inoltre saranno tutti dotati di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso in grado di assicurare tempestività negli interventi.